Giro al pull giusto? Si. Aster scusami sulla... Ok, dividetevi. Bene sulla tesca in idea, vi raggruppiamoci, divisi un po' un po'. Via, come viene? Fuori da quello di destra, lontani dai stack di destra, vieni, 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 vieni. Ok, adesso sul tesco di nuovo, aggruppati, di ranged chiaramente sul loro. Via a destra e poi subito a sinistra. Qua ci raggruppiamo, c'è da spostarci subito, via dalle stack di sinistra, bravi, e adesso di nuovo tesco, 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 tesco. Ehi, raggruppati bene, divisi un po' un po'. Via dalle stack di destra. Raggruppati, tesco, bene raggruppati. Attenzione. Via destra. Poi subito raggruppati. Poi dire debuff, poi via dalle spike. Ok, bene così. Di nuovo tesco, tutti sul bordo di destra, bene su destra. Faccio no? Sì. Vai. Bravissimo. Raggruppiamoci, di nuovo tesco. Qui c'era il buff, quindi tutti vicini e poi subito via. Ok, adesso di nuovo tesco. Pronti a raggrupparci per le spike. Poi un po', non uscite fuori, state dentro, state dentro. Ok, via dalle spike di destra. Via, 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 via. Ottimo. Teschio. Via subito a sinistra. E poi ritorniamo in posizione. Teschio, qui c'è il buff. Via dalle spike. Ottimo. Raggruppati sul teschio. Viene raggruppati un po' un po'. Via subito. Lontani dalle spike di destra. C'è teschio. Bene teschio. Subito a sinistra. Subito a sinistra. Subito a sinistra. Via dalle spike. Ottimo. Raggruppati teschio. Via subito. Raggruppati teschio. Raggruppati teschio. Bene raggruppati. Arrivano i cerchioni. Divisi un po' un po'. Via da destra. Raggruppati. Ok. 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 Grazie a tutti.